I muffloni sono salvi, gli animali che vivono all'isola del Giglio e che erano stati condannati a morte perché colpevoli di essere una specie non autoctona non saranno abbattuti. Dopo la sospensiva del 27 novembre è arrivato l'accordo per lo stop alla caccia firmato dall'AV WWF e Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano che inizialmente aveva dato mandato ai cacciatori di armare le doppiette. I muffloni dovevano essere abbattuti perché considerati in base a un progetto europeo nocivi per la biodiversità isolana, ma le proteste degli animalisti hanno portato al dietro front. L'accordo sospende gli abbattimenti ma intensifica le catture finalizzate al trasferimento degli esemplari in altri luoghi con modalità che tengano conto del benessere degli animali. Nascerà anche un gruppo di lavoro di esperti e tecnici designati da rappresentanti delle associazioni firmatarie che avrà il compito di accogliere proposte e disponibilità per le strutture che vorranno accogliere i muffloni. Una ventina di questi potrebbero finire nel Parco regionale Emigliarino San Rossore Massaciuccoli, visto che il presidente Lorenzo Bani si era offerto di ospitarli. Di sicuro non finiranno in aziende faunisti-govenatorie a fare da bersaglio ai cacciatori. L'accordo lo vieta espressamente.